Guarda che abbiamo perso tanti giocatori, ma penso che abbiamo la squadra giusta per lottare su tutti i fronti e noi saremo sul pezzo perché abbiamo voglia di fare delle belle cose e vincere il più partite possibile perché nessuno ci aspettano e è ancora più bello così perché noi lavoreremo per lottare con i favoriti perché adesso non siamo più noi favoriti ma gli altri e adesso giocheremo fino in fondo come sempre. Già di giocare di continuo e poi essere sul pezzo, essere a disposizione tutte le domeniche perché è quello che ricerco di fare perché avendo questo infortunio ho fatto fatica a recuperare, ho ripreso presto e quindi ho tirato un po' sul ginocchio ma adesso ho lavorato bene e sarò a disposizione per lottare e penso che siamo tanti in difesa a giocare a quel posto là e va bene per noi perché con la concorrenza ci può fare delle grandi cose. Sì certo, penso che di Thiago Silva e di Sandro Nesta ce ne sono solo due. Io sono Mexes, abbiamo Zapata, Bonera, Iepetz e noi siamo lì al Milan, gli altri sono partiti, noi guardiamo quello che c'è intorno e lavoriamo per essere al 100% e per fare dimenticare quei grandi giocatori che sono stati quelli e adesso dobbiamo guardare avanti e noi indietro.